Dominio Dominio Ecco qua Conoscete questa parola? Soppo di sì Ci sono molte tradizioni che sono state tramandate per più attraverso tazze del fuoco e dei fatti Non ha trovato nessuna prova concreta del fatto che i guerrieri e le tribunative americane mangiassero il cuore dei nemici forse sono solo leggende ma forse e dico forse non lo sono Ehi Tom Ti è capito l'elastico? Ho mangiato l'indichetta Ci sono alcuni elementi che hanno spettato Buona idea Ha mangiato il cuore di un suo nemico Era una notizia che ha fatto il giro del mondo ha suscitato grande scarpone Un'altra notizia è l'unico modo delle dissi che si intorgi Ma siamo stati anche in te già tante volte forse c'è un modo più entro per i messaggi più entro Sì Cosa ci fate qui? Sì 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 Si può sapere che succede? Questi sono argomenti importanti Non tornano distrazioni Sì